Anche Teramo ricorda Pasolini a 40 anni dalla scomparsa con una iniziativa che prenderà il via il 9. Sì, il 9 dicembre con la visione del film all'interno dello spazio ufficio indipendente Pelo Malo, un film venezuelano e racconta la periferia venezuelana. Poi ci sarà un secondo appuntamento il 14 dicembre a Pineto dentro il centro di aggregazione giovanile presso la stazione con la collaborazione dell'associazione Trin e Arci Metexis, l'associazione locale dell'Arci, con Tisi d'England. Il 16 dentro il comitato di collaterrato con il film L'odore della notte di Caligari, regista recentemente scomparso e candidato agli Oscar. e per chiudere all'interno della parrocchia di San Berardo, periferia storica di Teramo, che è stata anche un cinema, ringraziamo il parroco ovviamente che ci dà questa opportunità, con un film La Schivata che parla proprio dei ragazzi delle buone.